Vallefoglia guarda avanti e punta a diventare presto la città del futuro. In città infatti arriverà un nuovo autobus elettrico con corsia riservata che permetterà di raggiungere la città di Pesaro in pochi minuti. Bus di questo genere ce ne sono pochissimi in Italia e a livello europeo sono presenti solo nelle principali città. È previsto un finanziamento europeo di circa 1,4 miliardi alla regione. Di questi, 11 milioni saranno destinati al progetto pilota di Vallefoglia. L'idea è quella di migliorare il collegamento in un'area che ha oltre 50 mila abitanti che vede in questa piazza il baricentro e che si collega nel compressorio pesarese che ha oltre 20 mila imprese con una capacità di avere più velocità. Un autobus super veloce con una corsia preferenziale elettrico, quindi sostenibile, che guarda al futuro e che insieme alla circolare che c'è attualmente nel compressorio pesarese che però c'è al mezz'ora e uno che ha fretta o prescia, come si dice da noi, in 10 minuti è a Pesaro. Del resto il sindaco Chielli da anni ambisce alla realizzazione di una metropolitana leggera di superficie per il collegamento con Pesaro. L'idea di città futura è un'altra costante che ha portato il primo cittadino a insistere nella realizzazione di questo progetto. Io sono uno che va a velocità supersonica, cercherò di incalzare tutti quelli che devono realizzare questo obiettivo e di lavorare insieme al sistema produttivo, alle imprese. Questo è un territorio molto in crescita, in questa fase sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione quasi 100 mila metri di cappannoni nuovi ed è un territorio che ha in controtendenza regionale e nazionale le nascite dove sono molti bambini nati. Non è un caso che lo Stato ci ha dato 1.200.000, 160.000 euro per altri 60 posti nel nido Pian del Busco oltre i 120 esistenti.